Anche noi di Gossip Tube volevamo a questo punto fare gli auguri a Valeria Marini, visto che lo sta facendo tutta la rete, perché ricordiamo Notti sul ghiaccio, Valeria Marini a rischio eliminazione, sta competendo contro Giulio Base, quindi ricordiamo Giulio Base è il numero uno, Valeria Marini è il numero due. Allora io a questo punto invito tutti quanti a telefonare per votare, Valeriona, quindi vediamo anche il numero, il numero è 894001 o da cellulare il numero è 4754755. E a questo punto direi, però per essere sicuri che Valeria vinca, insomma, io personalmente oggi ho comprato tre sim, tre sim perché voglio dare oltre quella che già ho, quattro preferenze a Valeria Marini. Io penso dobbiate farlo un po' tutti, perché comunque la cosa è importante, l'Italia intera si è fermata, siamo tutti in attesa di questa puntata di sabato. E niente, insomma, io ripeto i numeri a questo punto, 894001 da linea fissa e 4754755 da linea mobile. Dai Valeria, dai, che ce la puoi fare, cioè Giulio Base, dai Giulio Base, tu sei una showgirl consumata, consumatissima, dai Valeria, no? Grazie a tutti.